In questo numero del Salus Tg, intesa tra AIFA e Antitrust per tutelare consumatori e pazienti, dalle regioni l'ok al nuovo piano vaccini, nuova aggressione a Bologna, CISL chiede una guardia giurata H24 nel pronto soccorso. L'Agenzia Italiana del Farmaco e l'autorità garante della concorrenza e del mercato uniscono le forze e firmano un accordo che si pone nell'obiettivo di favorire la cooperazione per mantenere adeguati livelli di concorrenza nei mercati, contrastando le politiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e tutelare i pazienti, garantendo l'accesso ai medicinali e l'equilibrio economico del sistema farmaceutico. Per il nostro cittadino un messaggio estremamente importante perché andiamo a vigilare e intervenire tempestivamente su tutto quanto può portare a pratiche di vendita a distanza illegali, ma soprattutto per tutto quanto riguarda la contraffazione per la tutela del bene salute. Via libera delle regioni al piano nazionale vaccini 2017-2019 che ha poi ottenuto l'ok definitivo della conferenza Stato-Regioni. Oggi è una giornata importante per l'affermazione della politica di prevenzione nel nostro paese, sottolinea il presidente della conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini. Prevenzione sia rispetto a riaffacciarsi di patologie che credevamo ormai definitivamente superate, sia rispetto alle coperture necessarie per altre gravi malattie e per le fasce più deboli della popolazione. Per garantire la sicurezza del personale sanitario che lavora presso il pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna, la CISL-FP, area metropolitana, ha richiesto la presenza di una guardia giurata per tutte le 24 ore della giornata. Questo in seguito all'aggressione a calci e pugni, ai danni di una dottoressa e un'infermiera, in servizio, da parte di una donna sulla cinquantina. A far andare in escandescenze la paziente, giunta al pronto soccorso per avere assistenza, la richiesta da parte del medico di un ricovero per chiarire il quadro clinico prima di iniziare la terapia.